Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per il video commento all'episodio di Boruto 7 Atmosfera horror in questa puntata dedicata alla nuova generazione di Konoha La giovane Chocho, figlia di Choji Akimichi, vive la paura di essere inseguita da qualcuno Alla fine nessuno insegue l'egocentrica Chocho, ma realmente un piccolo stalker è presente in questo episodio Un ragazzo che a causa di una cotta per la rappresentante di classe segue le giovani studentesse dell'Accademia Ninja Alla fine a causa del suo amore non corrisposto questo ragazzo diviene triste E cosa succede? Il suo chakra muta e viene posseduto dalla strana e misteriosa bestia che ormai ci accompagna dall'inizio di questa nuova serie Boruto nel frattempo ha cominciato ad indagare insieme a Shigadai Se qualcuno perde il controllo della gente ci sarà un motivo Uno scopo Lo stesso accade nella stanza dell'Okage Naruto e Shikamaru continuano a parlare degli strani avvenimenti al villaggio Pare che si siano verificati dei casi in cui la gente ha esaurito il proprio chakra ed è finita all'ospedale Qualcuno quindi si sta appropriando del chakra della gente Noi sappiamo che in tutta questa storia la bestia misteriosa è sicuramente coinvolta Ma c'è anche un altro personaggio che in tutto questo risulta essere molto misterioso Mitsuki Alla fine dell'episodio lo vediamo ancora una volta parlare con il serpente Adesso è sicuro che Boruto riesce a vedere la bestia Non capisce perché ci riesce solo lui e perché nessun altro può Inoltre pare che il serpente gli sussurri qualcosa Ma noi non possiamo sentire cosa Mitsuki quindi è in missione al villaggio di Konoha Probabilmente dietro il suo compito c'è Orochimaru E suo figlio E parla con un serpente L'ipotesi più accreditata sembra proprio questa Il compito di Mitsuki sembra quindi essere legato in qualche modo alla bestia Forse vuole sapere di più sul suo conto Magari vuole capire come agisce e cosa sia in realtà Questo perché è apparso quando la bestia fu in qualche modo richiamata da Boruto Quindi sembra che Mitsuki sia come alla caccia di questo misterioso mostro Pensiamo dunque che faccia delle ricerche su questa creatura Ma non pensiamo che possa essere in qualche modo responsabile degli attacchi della bestia Forse perché all'interno del film Boruto Naruto dei Movie Il personaggio ci è apparso come un personaggio positivo Quindi dubitiamo possa essere al momento il cattivo della situazione A meno che grazie a Boruto cambi personalità Ma già dal capitolo 0 del manga il personaggio non ci è sembrato negativo E alla ricerca del suo sole per diffondere la luce nell'oscurità E probabilmente questo sole sarà Boruto per lui Non crediamo possa essere in qualche modo una minaccia Anche se in questi episodi cercano in tutti i modi di farcelo credere Un fattore interessante che riguarda la bestia ci viene svelato in questo episodio I soggetti posseduti possono ritornare in sé con la propria forza di volontà Basta solo smettere di autocommiserarsi In questo episodio succede con il piccolo stalker Nel primo episodio è successo con Denki Chocho gioca un ruolo fondamentale in questo episodio Non è solo una ragazza egocentrica che pensa solo a se stessa e alla sua pancia È capace anche di fare bei discorsi Di sollevare il morale degli altri Di essere un buon personaggio di supporto Riesce così a far ragionare lo studente posseduto E questi riesce a ritornare se stesso Iscriviti al canale Fandom Tanti video Notizie Commenti E teorie Il titolo dell'episodio è Amore e patatine Chocho con un pacchetto di patatine Riesce a risolvere la situazione più disperata Perché questa ragazza misura la sua vita E misura le situazioni più difficili con un pacchetto di patatine È in chilogrammi Nel prossimo episodio che sarà pubblicato tra pochissimo Intitolato La rivelazione del sogno Vedremo Boruto che ne saprà un po' di più sul Byakugan E farà un sogno strano dentro il quale vedrà una misteriosa persona Che gli concede un potere particolare Nel frattempo Shigadai e gli altri ragazzini del villaggio Dimostrano una grande ammirazione nei confronti del settimo Kage Lo considerano un eroe Boruto al contrario loro non è molto convinto È abituato a vedere il padre sempre stanco E in un certo senso non crede che il padre sia così tanto speciale Il 31 maggio andrà in onda invece l'episodio 9 Intitolato La mia prova Boruto in questo episodio si scontra con sua zia Hanabi Hyuga Che ha avuto un ruolo importante all'interno del film The Last Naruto dei Movie In questo episodio Boruto vuole essere riconosciuto dal padre Naruto Nel corso di questa lotta però Boruto non riesce ad utilizzare il suo particolare Byakugan In questo modo non riuscirà a dimostrare alla sua famiglia di possedere un potere particolare Dell'episodio 10 sappiamo invece solo il titolo Che sarà Incidente con il fantasma Ecco queste sono le sinossi che sono state pubblicate in Giappone Per quanto riguarda l'abilità oculare di Boruto Quest'ultimo possibilmente non riesce a dimostrarla alla famiglia Perché né nel film né nel manga ancora la possiede L'abilità di Boruto è infatti una caratteristica inedita del personaggio Che vediamo all'interno di questa saga originale e non tratta dal manga All'interno del manga questa abilità Naruto ancora non la possiede Però la vediamo nell'introduzione nel primo capitolo Quando si vede Naruto lottare con Kawaki La stessa scena che abbiamo visto nell'anime di Boruto Questo è stato un episodio quindi molto leggero E divertente che dà spazio a Chocho e alle avventure accademiche Ancora una volta Boruto ci stupisce con queste avventure studentesche Un aspetto che in Naruto non è stato approfondito E che in Boruto invece sta trovando molto spazio In Boruto finora abbiamo trovato amicizia Relazioni padre e figli Relazioni studentesche Piccoli problemi quotidiani Ancora nulla di molto serio e problematico quindi Gli eventi però si avvieranno verso la saga con la trama del film E prima o poi entrerà in scena Kawaki Presto o tardi anche la generazione di Boruto farà i conti con potenti nemici Per il momento godiamoci queste divertenti avventure spensierate Perché probabilmente in futuro entreranno in scena personaggi che non hanno buone intenzioni Vi ricordiamo che adesso siamo pure su Telegram Ed è ieri che ci divertiamo a rispondere ai messaggi E per noi è stato un piacere conversare con tutti voi In descrizione troverete tutte le informazioni necessarie Per raggiungere il nostro canale Telegram e il nostro profilo privato Ma le notizie non finiscono mica qui Domenica 4 giugno saremo all'Etna Comics di Catania E all'interno della YouTube Valley potremo gestire una conferenza intitolata Da Dragon Ball a Dragon Ball Super Due generazioni a confronto Quindi se quel giorno sarete all'Etna Comics Fate un salto alla YouTube Valley alle ore 10 E mi raccomando è veloci perché l'Etna Comics apre alle 10 quindi Eccoci giunti alla fine di questo video Vi ringraziamo per averlo visto Se vi è piaciuto mettete un bel like E condividetelo con un amico appassionato di Naruto e Boruto Se volete rimanere aggiornati sui prossimi caricamenti Iscrivetevi al canale e seguiteci su Telegram, Twitter, Instagram e sulla pagina Facebook Alla prossima! Alla prossima!